sono qua sulla mia email istituzionale e voglio cancellare tutti quelli di cuora ok dunque vado a mettere cuora a questo punto ho tutti seleziono tutti cancella bye bye cuora no e ancora ah no seleziona tutte le conversioni dunque ah perché non sennò dovevo selezionare qua era meglio selezionare qui sono a posto e dunque bye bye cuore see you next time